Giorno a tutti ragazzi, come va? Spero tutto bene e benvenuti in questo nuovo video di Nerd Show Movita Oggi andremo a reagire al trailer della serie Hockey, cioè Occhio di Falco, essendo che è meglio che lo dico in italiano che in inglese Per i soliti motivi detti ormai cento volte, vabbè Come sappiamo anche questa serie, che sarà già pronta, cioè il primo episodio verrà mandato in onda il 24 novembre in Italia Ci andrà anche a introdurre poi per il film di No Way Home, a quanto ho capito E niente, io allora direi subito di iniziare con il trailer Questo è il primo Natale che passiamo insieme Che prestigio Dopo Anno Vi voglio bene Voglio recuperare il tempo perso Ci sta, ci sta Le autorità si chiedono se il giustiziare mascherato e il terrore della criminalità sia tornato Ok Il mio passato mi ha raggiunto Dobbiamo preoccuparci, io non... No, no, non è niente Sarò a casa per Natale Te lo prometto Ok, sì, perché poi spaiando la riduzione mentale Tutto il vero Come nel periodo è quello Marvel Studios Mentre indossavo quel costume Mi creai un mucchio di nemici Sei occhio di Falco Tu che diavolo sei? Alcune persone mi definiscono La più grande arcera del mondo Sei una di quelle persone? Ehi piccola Dovrei tornare tra un paio di giorni? Aspetta un attimo La situazione si è Lievemente complicata It's the most wonderful time of the year Oh! Oh! Questo notale Sarò a casa per il riguardo It's the most wonderful time of the year It's the most wonderful time of the year Buon Natale a me Disney Plus E niente ragazzi Questo qui era il trailer di Occhio di Falco La serie che dovrebbe uscire come detto In Italia il 24 novembre Su Disney Plus Quindi tirate voi i soldi Io userò Telegram E niente vabbè Bye ad un prossimo video Non sei ancora andato a vedere il video che è uscito già Lunedì Vattelo subito a recuperare Perché no?